In questo video voglio tornare a parlare delle RSA, le residenze socio-sanitarie che ospitano tanti nostri anziani e che erano, sono ancora e saranno presidi da guardare con assoluta attenzione e preoccupazione nella lotta al coronavirus. Ieri con 30 sindaci del territorio abbiamo scritto ad ATS Valpadana per avere chiarimenti sulle procedure dei tamponi. Allora, il Ministero della Salute il 3 aprile ha dato queste indicazioni. Fare tamponi agli operatori, anche quelli asintomatici, fare tamponi ai soggetti vulnerabili, quindi anche quelli che risiedono nelle RSA. Ed è quello che noi avevamo chiesto e continuiamo a chiedere. La TS il giorno prima aveva dato indicazioni differenti, dando appunto indicazioni di effettuare tamponi solo a operatori che tornano in servizio dopo una malattia, anche presunta covid, e a quelli che ad inizio turno di lavoro presentano una temperatura superiore a 37 gradi e mezzo e a ospiti che presentano un quadro clinico sospetto. Questa differenza è un problema. Nel frattempo le RSA si sono procurate e si stanno procurando il materiale di protezione con una difficoltà enorme nel reperirlo. Il personale si è speso e si spende tantissimo. I parenti degli ospiti hanno contribuito con dolore, sopportando restrizioni necessarie di separazione. A Cremona Solidale abbiamo già iniziato i tamponi pagati dalla struttura e li continueremo, isolando zone covid da zone non covid. E l'impegno enorme è stato anche profuso sulla questione della gestione dolorosa dei feretri. Ma capite che per affrontare queste questioni occorre che le RSA siano coordinate da ATS e che ci sia un cambio di passo nel coordinamento rispetto a queste strutture per difendere insieme anche i cittadini che risiedono e lavorano nelle case di riposo che non sono cittadini di serie B. La mappatura tappeto con tamponi nelle strutture RSA sia di operatori che di pazienti è una scelta fondamentale per tutelare le strutture stesse, per consentire la predisposizione anche di adeguati presidi e riorganizzazioni interne, per affrontare la situazione attuale le prossime settimane. fino a che non ci sarà un vaccino, infatti, le strutture come le case di riposo sono bombe a orologeria, luoghi delicatissimi, possibili fonti di ulteriore contagio, dolore e morte. Considerate che abbiamo registrato decessi con incrementi di mortalità pari al 150%. Per questo corre agire e avere una strategia sull'RSA per le prossime settimane e i prossimi mesi. Le nostre case di riposo sono luoghi preziosissimi e fragili, vanno tutelati per chi vive e lavora in quelle strutture, per i parenti, per tutta la comunità.